Sì, abbiamo portato il Presidente del Consiglio a Gay Pride perché lui non è venuto e quindi ironicamente l'abbiamo portato. Non è importante che Renzi sia qui, ma è importante che Renzi dia dei diritti alle persone lesbi e gay. Quindi può anche non venire al Pride, ma col suo 40% dovrebbe dare diritti alle coppie e lottare contro la discriminazione. Perché è un premier che deve rappresentare tutti gli italiani e anche quelli di questa piazza. È di Biancaneve, no? Certo. Grimille. Penso che debba essere rispettato l'amore e l'affetto di tutte le persone e credo che sia davvero un'onta per il nostro Paese essere rimasti così indietro rispetto al resto del continente europeo. Consiglio Comunale approvare subito dopo il voto sul bilancio la delibera per riconoscimento delle unioni civili. Poi stiamo lavorando, e questo è un fatto importante, forse è la notizia più importante, stiamo lavorando per capire se un comune può riconoscere le unioni che sono state celebrate in un altro Paese europeo. E infine dobbiamo fare tutta la pressione possibile perché il Parlamento legiferi su un tema sul quale l'Italia è rimasta indietro rispetto agli altri 27 Paesi dell'Unione. Andiamo!